Buongiorno a tutti amici, sono Andrea Bertello di Carfishing Online. Oggi sono qua per invitarvi tutti quanti giovedì sera 28 settembre alle 20.30 presso il nostro negozio di Badia Polesine. Poiché abbiamo pensato di invitare un personaggio del mondo del carfishing molto conosciuto e questo personaggio è Mauro Pitorri. Mauro sarà qua a vostra disposizione per presentarvi tutte le novità del marchio Fox, per darvi consigli utili sulla costruzione dei terminali e molto altro ancora su tutto quello che riguarda il mondo del carfishing. Durante la serata, come consuetudine, come tutti i giovedì del carpista, saranno attivi tutti gli sconti a voi riservati. Detto questo vi rinnovo l'invito di giovedì sera 28 settembre, non dimenticatelo. Spero di vedervi numerosi perché sarà una serata fantastica. Vi invito anche a mettere un like al video se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo giovedì sera. A presto!